Una bella iniziativa che oggi l'associazione Rocca Volando è scesa in parapendio, tanti babbi natale. Assolutamente sì, è una discesa da parapendio invernale, abbiamo portato le caramelle ai bambini, è un'occasione di festa per la nostra associazione ma anche un modo per far conoscere il parapendio e far vedere che è uno sport bello, semplice, sicuro ed è divertimento puro per tutti quanti. L'associazione Rocca Volando, venite a volare da noi, vi porteremo in volo anche per farvi provare questa esperienza. Un'associazione molto viva appunto non soltanto per lo sport che praticate ma anche per le varie iniziative che organizzate per Rocca. Certo, è un modo di far vivere il territorio, far riscoprire comunque tante belle realtà e per aiutare comunque la vita di questi paesi che sono comunque bellissimi e sono il nostro territorio da riscoprire. Per chi volesse farne parte? Non c'è nessun problema, noi siamo qui a Rocca, il Bar Labranda è la nostra sede di associazione, si può venire qua, si prova tutto quanto, l'esperienza del volo e ovviamente l'attività che è quella del parapendio ma non solo, tutti gli altri enti e le associazioni che partecipano e aiutano anche noi nel territorio possono essere a disposizione per uno sport che è più compiacente per ciascuno di voi. Prossima iniziativa in programma? Assolutamente, con l'arrivo della primavera ci sarà una stagione bellissima e noi vogliamo tutto l'anno, potete venire a provare, c'è il volo in doppio, si può scendere in massima tranquillità e ci saranno tante occasioni di festa per divertirsi in volo e anche a terra. Anche l'associazione Arceri oggi qui a Rocca? Certo, la nostra realtà, la nostra compagnia nasce circa nove anni fa e adesso da tre anni collaboriamo anche con noi con i parapendisti e siamo qui di base a Rocca, qui alla Branda che gentilmente ci ha offerto un campo per allenamento, per allenarci e questa è la nostra attività. Facciamo gare, organizziamo anche delle manifestazioni, abbiamo un locale coperto a Rivarolo, organizziamo corsi di tiro, ci sono tre istruttori in compagnia e quindi questa è la nostra attività e cerchiamo di portarla avanti nel migliore dei modi. Per chi volesse farne parte? Ma assolutamente sì, si possono fare tesseramenti tutto l'anno, i corsi li organizzeremo poi magari in primavera perché adesso fa un po' freddino, però assolutamente chi vuole provare a tirare con l'arco, anche noi nel nostro piccolo vogliamo con le nostre frecce e quindi chi volesse provare a tirare con l'arco, a provare questa disciplina e volare con le nostre frecce è ben accetto assolutamente.